Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi parlo delle penne Corvina 51 made in Italy by Carioca, delle pene che hanno segnato la storia della cartoleria italiana perché sono presenti nei negozi o perlomeno lo sono state per molto tempo disponibili nei negozi a partire dagli anni 60, metà degli anni 60 e fanno parte dell'iconografia della penna italiana. Vediamo che hanno la caratteristica di avere questo fusto arancione e poi il cappuccetto sulla estremità della penna e il cappuccio del colore dell'inchiostro della penna. Una volta erano prodotte dalla Universal che poi è divenuta Carioca Italia e sono ancora prodotte tutt'oggi. Vedete che il corpo è esagonale, antirotolamento, è scritto nelle indicazioni della penna e poi c'è questo cappuccetto che può essere svitato per accedere al refill, cioè alla cartuccia vera e propria diciamo che contiene l'inchiostro. La punta è da un millimetro, la confezione contiene quattro penne, made in Italy Corvina 51, quattro penne. Vedete iQuality Sims 1965. Quindi ricordavo bene, vedete che il simbolo è proprio il corvo che tiene in mano la penna Corvina 51. Due penne blu, una nera e una rossa, una confezione da quattro. In negozio fisico, scrittura scorrevole e precisa, inchiostro resistente alla luce, corpo esagonale antirotolamento. Ecco qua le indicazioni. Long writing refill, cioè cartuccia che praticamente ha una lunga durata di scrittura. La Corvina 91 invece ha la differenza di avere o il fusto trasparente, ma ce ne sono anche di Corvina 51 col fusto trasparente, ma di non avere la clip per l'aggancio al taschino, per esempio, della camicia. Comunque, ora che ve le ho descritte, passiamo alla prova di scrittura. Eccola qui. Scrivono bene. In colorazione nera, rosso. Il rosso è abbastanza scuro. Il blu è un blu tendente un po' al viola, come era d'uso praticamente negli inchiostri di quel periodo, anche se comunque questi sono inchiostri decisamente di fattura più recente. E vedete le tue penne blu come scrivono. Vedete che quella più nuova scrive un pochino più, con un blu più profondo, più scuro. Però, insomma, diciamo che appunto stavo dicendo in negozio, in negozio fisico, al center casa, si trovano questa confezione a un solo euro, mentre su Amazon io l'ho trovato la confezione a 6 euro. Quindi, in questo caso, è decisamente più conveniente comprare nel negozio fisico, se le trovate. Io le avevo comprate su Amazon, era il mio primo acquisto, quindi non avevo speso, non avevo aggiunto le spese di spedizione che erano gratuite e quindi non trovandole in negozio fisico ho optato per Amazon. Bene ragazzi, io spero che queste penne vi siano piaciute. Vi invito a mettere mi piace a questo video, di condividerlo sui vostri social se anche voi siete appassionati di cartoleria come me. E niente, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Mi raccomando, state in campana, perché queste penne sono la storia della penna italiana e non bisogna mai scordarle. Ciao a tutti e alla prossima! Ciao ciao!